in consiglio regionale con il green pass il presidente mazzero lo aveva annunciato e dalle parole e passate fatti è uno strumento di libertà la commissione vaccini ha preso posto alla presidenza è stato letto fantozzi valuteremo l'operato della regione soprattutto nei passaggi critici della campagna di vaccinazione ha affermato il neopresidente il consiglio regionale si entrerà con il green pass a stabilire la misura il presidente del consiglio Antonio Mazzeo che ha lodato il comportamento dei consiglieri soddisfatto anche il presidente regionale Eugenio Gianni che ha anche parlato dell'ipotesi dell'obbligatorietà del vaccino era un impegno che avevo preso credo che noi per primi dobbiamo dare segni di responsabilità verso l'esterno e sono contento che tutti i colleghi oggi presenti in consiglio regionale abbiano partecipato utilizzando il green pass in quel regolamento siamo andati un po' oltre diciamo che tutte le riunioni che vengono effettuate all'interno del consiglio regionale chi parteciperà dovrà essere munito di green pass credo sia una delle posizioni più avanzate in questo momento ringrazio tutti i gruppi politici per aver supportato questa proposta e credo che ognuno di noi deve fare la sua parte il tempo di ridare alle persone la libertà e quella libertà passa attraverso la vaccinazione io qui sotto c'è una manifestazione da parte dei novax devo dire che è giusto che ognuno possa esercitare il proprio diritto al dissenso ma non con insulti minacce ho visto dall'altro anche un segno che è rappresentativo della furia nazista e paragonare i vaccini che sono libertà a quel simbolo è qualcosa davvero di sgradevole di grave ma noi non ci fermiamo le loro minacce non ci fanno paura penso che oggi noi abbiamo un grande compito che è quello di cercare di restituire ai cittadini la piena libertà e può passare solo attraverso i vaccini vi dico due numeri che per me sono fondamentali in questa settimana ci sono stati 23 persone che purtroppo sono andate in terapia intensiva di queste persone 20 non erano vaccinate e diversi di loro avevano meno di 40 anni ecco io penso che questo se i numeri parlino continuo noi dobbiamo continuare con forza questa campagna vaccinale e non saranno certo le urla o le minacce qui sotto che non ci faranno andare avanti spediti in questa direzione io ve l'avevo detto è una decisione una valutazione dei contenuti che faccio la settimana prima del 30 di settembre allo stato attuale però devo prendere atto e devo ringraziare il presidente Draghi per la serietà e la coerenza con cui sta analizzando una per una tutte le varie fattispecie e rendendo il green pass sempre più esteso e quindi un vero stimolo al vaccinarsi delle persone io dico comunque che fra provvedimenti nazionali e quelli regionali tutti coloro che non l'hanno fatto vadino a vaccinarsi oggi è semplicissimo tutti gli hub sono liberi non c'è bisogno di prenotazioni vadino a vaccinarsi e lo facciano per i loro bambini dai 12 ai 16 anni anche perché magari ora che abbiamo abbassato il livello pandemico e siamo in una situazione sempre più normale magari non ci se ne rende conto ma ricordatevi l'anno scorso quando fu proprio l'inizio di ottobre assegnare una crescita esponenziale che ci portava nei primi mesi di novembre ad avere 60-70 morti il giorno 16.700 contagi in una settimana in Toscana ecco pensateci ora perché il vaccino ora a metà settembre è quello che previene quello che può accadere nel momento in cui il virus ha dimostrato di avere la massima capacità di espansione ovvero i mesi d'ottobre e novembre sulla base dell'esperienza dell'anno scorso sulla stessa lunghezza d'onda si sono espressi Enrico Susteni del PD e Stefano Scaramelli di Italia Viva mentre Francesco Torzelli di Fratelli d'Italia ne ha approfittato per attaccare Giani sulla possibilità di rendere obbligatorio il vaccino noi siamo a favore del Green Pass siamo a favore del fatto che tutti i dipendenti pubblici e nei luoghi di lavoro debba essere esteso quanto prima siamo anche disponibili all'obbligatorietà qualora entro settembre noi non risolviamo questa questione ormai siamo su un livello soglia per cui chi voleva si è vaccinato chi poteva si è vaccinato rimane il problema di chi non può e quindi l'obbligo oggi è un atto dovuto nei confronti di coloro che non possono vediamo come queste nuove misure per esempio sui luoghi del lavoro sui dipendenti pubblici su tutta una serie di misure possono aumentare il livello dei vaccinati noi dobbiamo arrivare a un livello soglia perché è evidente che ciascuno di noi ha diritto e dovere di togliersi questa mascherina i ragazzi hanno diritto e dovere di andare a scuola, di fare attività culturale e sociale le imprese hanno diritto e dovere di lavorare e le persone hanno diritto e dovere anche di essere salvate se andiamo a vedere che poi coloro che vanno in terapia intensiva sono coloro che non sono vaccinati il compito e il dovere starà a noi che abbiamo un carico istituzionale di curare e mettere in condizioni anche loro di salvarsi Sì, io condivido l'accelerazione del Presidente, l'accelerazione anche del Governo mi pare il Presidente si muova sulla linea del Governo il Green Pass è una misura di libertà per tutti per permettere di fronte a un'ipotesi che però non è peregrina di aumento dei contagi con la riapertura delle scuole con il clima che ci imporrà di stare chiusi nelle stanze, nei ristoranti, nei luoghi di incontro ci può essere, noi speriamo di no, ma è evidente che va tenuto conto di un aumento dei contagi e allora la vaccinazione è l'unico strumento per garantire un inverno senza nuove chiusure che nessuna categoria economica si può permettere e neanche da un punto di vista sociale e civile noi sappiamo che cosa ha voluto dire per la scuola, per i ragazzi quindi il Green Pass è uno strumento di libertà, non di costruzione della libertà Siamo fuori da ogni logica in Regione Toscana, abbiamo sentito dire che dal primo di ottobre nemmeno chi non ha il Green Pass, chi non è vaccinato dovrà starsene chiuso in casa come monache in isolamento secondo me, continuo a dire, lo ripeto, da quando il Presidente Gianni si è lasciato andare a questa uscita secondo me profondamente infelice, che è un'uscita infelice, un'uscita non degna di un Governatore di Regione e sono curioso di capire come potrà il Governatore Gianni impedire a chi ha regolarmente il Green Pass ma non ha fatto il vaccino di uscire di casa io credo che sia una cosa che non può essere nemmeno presa in considerazione, non messa in atto, nemmeno presa in considerazione Sarà Vittorio Fantozzi a guidare la Commissione Vaccini Dopo una serie di tentativi andate a vuoto, al vertice è stato letto il consigliere di Fratelli d'Italia che ha annunciato l'intenzione di ripercorrere le fasi della campagna vaccinale in Toscana che nel primo periodo ha vissuto momenti critici Sicuramente non circoscriveremo la nostra attività su quello che è la campagna vaccinale ma ci occuperemo a tutto tondo della gestione della pandemia Sarà quindi possibile attraverso il lavoro di questa Commissione ricostruire i passaggi più critici o quelli che sono rimasti ancora senza una risposta verso la comunità toscana che ci hanno interessato negli ultimi due anni Questa in due direzioni, da un lato per fare pienamente luce e trasparenza su quelli che comunque sono stati i passaggi di ordine amministrativo e dall'altra parte per sostanzialmente evitare che in futuro anche attraverso una ricostruzione, diciamo un'attività costruttiva di questa Commissione si possano impedire e verificarsi di situazioni come quelle che abbiamo vissuto La sua azione sarà condivisa con Federica Fratoni del PD e Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle rispettivamente Vice Presidente e Vice Presidente Segretario Io credo che sia per i tempi che per le modalità questa Commissione in realtà potrebbe essere efficacemente riassunta nel lavoro che la terza Commissione Sanità sta conducendo da tempo Noi siamo mesi che audiamo l'assessore tutte le settimane che ci viene a riferire sull'andamento della campagna vaccinale e tutti i commissari hanno modo di interloquire con lui e con tutti i tecnici dell'assessorato Ovviamente non abbiamo niente da nascondere siamo assolutamente disponibili ad approfondire tutti gli aspetti sui quali le forze dell'opposizione nutrono ancora dubbi Io credo che i numeri parlino chiaro rispetto all'efficacia della campagna vaccinale in Toscana e quindi gli argomenti ci sono tutti la nostra disponibilità è chiaramente quella un confronto pur che sia serio nel merito e delinei secondo me oltre ai dubbi anche gli ottimi risultati che la Regione ha conseguito Secondo noi questa Commissione ha un compito molto importante non solo quello di far luce su quello che è accaduto durante la gestione della pandemia tutti siamo al corrente che alcune categorie hanno avuto un accesso privilegiato ai vaccini ma anche quello che è stata tutta la gestione dei dispositivi di sicurezza delle risorse su come e dove sono state stanziate e non ultimo anche il famoso piano pandemico che a tutt'oggi a noi dietro richiesta di accesso agli atti e interrogazioni non risulta pervenuto quindi avrà un grande compito questa Commissione non solo riguardo ai vaccini ma un po' a tutto il mondo della sanità perché è notizia di oggi che alcuni medici del pronto soccorso si sono dimessi per le condizioni di lavoro massacranti ecco io credo che la Commissione debba svolgere un ruolo investigativo piuttosto pesante perché ci sono tante criticità su questa gestione della pandemia e la situazione del pronto soccorso è una evidente conseguenza Grazie a tutti